Nel silenzio dell'alba, il villaggio Mon si risveglia lentamente tra la nebbia, quasi ogni mattina. Il fiume, tranquillo custode di antiche storie, scorre tranquillamente sotto di noi. Le montagne circostanti, avvolte in un velo di nebbia sottile, aggiungono un'aura di mistero e incanto. A questo paesaggio che veramente mi ha colpito nel profondo dell'anima. Gli abitanti del villaggio si svegliano lentamente, salutando il nuovo giorno con un sorriso e un gesto amichevole. Lungo le strette strade del villaggio, il suono dei passi e delle voci si mescola al canto degli uccelli e al mormorio del fiume, creando una sinfonia naturale che avvolge il cuore e l'anima. Il maestoso ponte che collega le sponde opposte del fiume si erge con fierezza contro il cielo dell'alba. La sua struttura elegante si fonde armoniosamente con il paesaggio circostante, offrendo uno spettacolo mozzafiato che incanta lo sguardo e ispira la mente. Lungo il ponte, gli abitanti del villaggio si muovono con calma ma allo stesso tempo determinazione, intraprendendo il loro viaggio quotidiano con fiducia e speranza. La vista si apre su un panorama mozzafiato delle montagne che circondano il villaggio. Le cime sono avvolte nella nebbia del mattino e si stagliano contro il cielo color pastello, creando un'atmosfera di magia e mistero che lascia veramente senza fiato. L'aria fresca e pulita del mattino invita alla contemplazione e alla riflessione, mentre il cuore si riempie di gratitudine per la bellezza del mondo che ci circonda. Mentre l'alba ripinge il cielo con sfumature di rosa arancione, il villaggio Mon, immerso nella tranquillità del mattino, si prepara ad accogliere un nuovo giorno ricco di opportunità e speranze per il futuro. Grazie a tutti!